Attilio Urciuolo, comunicazione e marketing, pubblicità offline e smartphone. Assessore, verde pubblico, ci sono delle difficoltà oggettive in città? Come l'amministrazione intende pure rimedio? Io ho dato mandato affinché gli uffici verificassero queste situazioni e attivassero le procedure di sommorgenza che delibereremo in giunta appena possibile. Quindi penso lunedì mattina. Ci saranno delle priorità su queste cifre? Assolutamente sì. Le priorità sono state individuate dagli uffici. Ovviamente le priorità più importanti riguardano le aree frequentate dai bambini, quindi le scuole, i parchi e le aree relative ai prefabbricati pesanti dove la situazione è abbastanza critica. Dall'Asla avete avuto risposte sulla derattizzazione. Com'è la situazione? La città sembra invasa da topi? L'ufficio apposito, che è l'ufficio dell'igiene pubblica, che è incardinato in un altro settore, non nel settore ambiente, ma in un altro settore del comune, quindi non dipende da questo assessore, ma che comunque è stato sollecitato da questo assessore e dagli altri, ha a sua volta inviato almeno quattro segnalazioni all'Asla per la derattizzazione. L'Asla fa queste operazioni di derattizzazione e mi dicono degli esperti che il nuovo metodo adottato non è molto efficace. Si utilizzano le cosiddette esche tiratte che tendono ad intercettare l'animale quando già è in superficie e chiaramente possono essere attinte da un solo animale alla volta. Il vecchio metodo invece prevedeva la derattizzazione in fogna, che è l'origine chiaramente di quella proliferazione di questi animali. Io non so se ci sono dei vincoli di qualche tipo a non utilizzare il vecchio metodo. Se non ci fossero, inviterei vivamente ad utilizzare quel metodo che mi sembra più efficace. L'Asla vi ha risposto? L'Asla ha risposto che essenzialmente il problema non è dovuto a questo, ma al fatto che c'è l'erba alta. Ma non è che l'erba alta fa nascere i topi. I topi nascono e proliferano, non è che si mangiano l'erba. Grazie.